Bene, siamo con il Lombardo, Roberto, ciao Roberto, un altro protagonista di questo bel incontro. La roca l'ha spuntata, però abbiamo visto veramente una bella partita, tu come la pensi? Sì, abbiamo visto una bella partita, abbiamo combattuto fino alla fine, è stata dura verso la fine, abbiamo sofferto un po', però alla fine quello che conta è che abbiamo portato a casa i tre punti, quindi conta solo quello. Sì, primo tempo diciamo che è stato all'appannaggio della roca, hai fatto un gol eccezionale, lasciatelo dire, perché grazie anche all'assist perfetto di Bombertonani, però il tocco sotto è stato delizioso. Sei tornato a tempo pieno diciamo, no, su questa squadra? Sì, diciamo di sì, diciamo che sto cercando di recuperare il prima possibile la forma fisica, per aiutare i miei compagni appunto in questa grande scalata che stiamo cercando di fare. Anche oggi l'Amarosticense ha fatto i suoi tre punti e ci tiene sempre lì con il fiato sul collo, per cui battaglia ogni partita. L'Amarosticense fa il suo campionato, noi facciamo il nostro, non dobbiamo guardarci indietro, dobbiamo solo fare il nostro e cercare di dare il massimo a ogni partita senza pensare a chi c'è sotto. Ok Roberto, grazie delle tue parole, ci vediamo alla prossima. Grazie mille.